Prosegue anche in questo anno televisivo e per noi come l'anno scolastico la collaborazione con la Fondazione per lo Sport. Sigla. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Voi in realtà avete ovviamente già iniziato la preparazione, le amichevoli, allora intanto le chiedo come vede la squadra in queste prime uscite? Io le prime buone sensazioni le ho già avute dal ritiro di Felina, dove lì chiaramente non è che si potesse valutare la squadra dal punto di vista tecnico, pur pensando che comunque noi dirigenti non dobbiamo fare i tecnici, ma ci sono i tecnici che lo devono fare. Lì ho visto che comunque c'era un gruppo che pur avendo 11 su 14 nuovi è un gruppo che si è visto subito, ha trovato subito coesione, un gruppo molto coeso, un gruppo molto di giovani, e quindi perché noi abbiamo puntato fortemente sui giovani quest'anno e già nei primi cosiddetti allenamenti congiunti, che sono sostanzialmente amichevoli, si vede che la squadra sta rispondendo bene, secondo me anche dal punto di vista proprio tecnico, il lavoro si sta vedendo, si vede che sta crescendo la squadra e il lavoro quindi sta procedendo bene anche a detta del tecnico. Ecco infatti ne volevo chiedere appunto com'è il lavoro dell'allenatore, ci sono già tante novità proprio sull'organico, sono molti giovani e non conoscevano la nostra realtà reggiana. Assolutamente no, ci sono molti giovani, sono 11 su 14, in poche parole sono rimasti in tre, che uno è Diego Cantagalli, l'altro è Antonino Suraci che ormai è al terzo anno, poi abbiamo fatto un biennale, quindi lui considera Reggio penso la sua casa e Mian Riccardo. Gli altri sono tutti nuovi, quindi ce n'è due o tre abbastanza esperti, anzi uno esperto sicuramente, che è poi il capitano, Elia, e gli altri sono principalmente dei giovani, giovani su cui puntiamo. Noi abbiamo un campione d'Europa a livello Under 22 che è Meschiari, Matteo Meschiari. Sì, l'avevamo avuto ospite in finale di stagione. E poi adesso ne abbiamo uno che sta facendo gli europei Under 20 che è Volpe, che non è mai venuto, non l'abbiamo mai avuto, perché è sempre stato impegnato con la nazionale, questo per dire anche il resto dell'organico. Il fatto che un giocatore possa portare nella squadra del club l'esperienza in nazionale credo sia una cosa positiva probabilmente. Sì, sicuramente questo, ma diciamo che è un dare e avere in tutti e due le direzioni, quindi chiaramente porta questo e nello stesso tempo a noi spetta il compito di far crescere questi ragazzi per poter fornire all'ambito nazionale, quindi alla nazionale, dei giovani talentuosi che possono fare una carriera di un certo tipo. È nuovo, ma non si può dire che sia nuovo per la realtà reggiana, all'allenatore Cantagalli. Sì, sì, non è certamente... No, intanto non è nuovo neanche per noi, perché comunque mi pare che l'ultima stagione l'abbia fatta nel 2016 Quindi non è così lontano, però è un ritorno, diciamo. Sì, sono sei anni fa, è un ritorno, sì. Poi comunque aveva fatto nel 2016, ma erano quattro anni che era con noi. Poi ha percorso altre strade, era anche un momentino uscito fuori dall'ambito di allenatore e per noi è stata un'opportunità, anche perché è un po' una nostra caratteristica dare un forte connotato reggiano a quello che facciamo. Noi l'anno scorso avevamo cinque ragazzi nell'organico, comunque di Reggio, e quest'anno abbiamo, per dare ancora in più questa impronta, abbiamo l'allenatore anche, che è una bandiera della pallavolo di Reggio, anche nazionale, anche italiana. In più abbiamo i due figli, che sono nell'organico, e Bucciarelli, che è un ragazzo giovane, che ha fatto solo fino all'anno scorso la Serie C, ma che è inserito nell'organico e sta crescendo anche lui. Com'è questo campionato? Quali saranno le squadre più temibili? E qual è il vostro calendario? Vabbè, allora noi cominciamo, in realtà, non il 9, ma come è previsto da calendario, ma l'8, perché andiamo a giocare a Padova contro la squadra di Motto di Venezia, sabato sera, sì. Poi avremo la prima in casa il 16, il 16 di ottobre, e poi di nuovo al mercoledì fuori casa, e il 23, quindi abbiamo due domeniche consecutive, il 23 ancora in casa, questo è l'inizio del campionato. Per quello che riguarda le squadre, vabbè, diciamo che sulla carta, perché poi la carta dice tutto adesso, poi dice quello che può dire alla fine, non è che noi siamo stati la dimostrazione. Allora, aspetti i migliori, la devo interrompere, però rimane qua, perché ci sono altre domande e altre cose da dire, però questo primo giorno di scuola ci impone di seguire proprio le attività che vengono fatte nel primo giorno. Torniamo all'Istituto Comprensivo Einstein, insieme ai Bannes Valeriani e Nando Rinaldi. Esatto, Susanna, abbiamo parlato prima insieme agli istruttori, naturalmente, ma adesso parliamo con Nando Rinaldi, direttore dell'Istituzione Scuola e Nidi, naturalmente, per farvi conoscere qualche numero in più e naturalmente anche per capire quelli che sono stati gli interventi effettuati. Buongiorno, Rinaldi. Buongiorno a voi. Allora, possiamo dare qualche numero? Sì, allora, questo lavoro che è stato un lavoro importante perché ha consentito di mettere in sicurezza questo edificio attraverso un'importante sistemazione antisismica. Complessivamente sono stati investiti 220.000 euro da parte dell'amministrazione comunale che ha, per l'appunto, oltre al lavoro di messa norma antisismica, è stato fatto un lavoro sulla pavimentazione interna delle sezioni. Abbiamo potuto anche sistemare gli infissi esterni e soprattutto la copertura del tetto. Per cui, come dire, oggi restituiamo alla comunità di Marmirolo una scuola che ha tutte le caratteristiche per riaprire in sicurezza e per consentire all'interno di un territorio del forese, del comune di Reggio Emilia, di avere un importante presidio, cioè quello di una scuola dell'infanzia, gestita dallo Stato, che rappresenta un'importante risposta ai bisogni delle famiglie e soprattutto ci consente di poter ospitare in ambienti nuovi e rinnovati e, ripeto, in sicurezza, perché questa è una delle nostre priorità, tanti bambini e bambine di questa frazione, consentendo di non abbassare l'investimento, i pensieri anche rispetto alle scuole dell'infanzia dello Stato, che oggi riaprono le 14 scuole dell'infanzia statali del nostro comune, perché all'interno del sistema pubblico integrato consentano nella città di Reggio di scolarizzare circa il 94% dei bambini, per cui è una percentuale molto importante su cui continuiamo a investire risorse, pensieri e innovazioni. Per cui è una giornata davvero di festa, dopo alcuni anni in cui la scuola dell'infanzia è stata ospitata, come vedrete, alla scuola primaria di Marmirolo, oggi è una giornata davvero di festa per questa frazione, per le famiglie e per le insegnanti, che ho visto davvero molto contenti di poter ritornare qui, dopo anni difficili anche dovuti alla pandemia, e naturalmente per le bambine e i bambini, che oggi riconquistano la loro scuola, per cui è una bella giornata per tutti noi. Ecco, esattamente, abbiamo visto bambini naturalmente felici, contenti di tornare a stare insieme, genitori altrettanto contenti di portare naturalmente i bimbi, ecco, fino a quanti bimbi possono stare in questa scuola? Questa è una sezione plurietà, per cui è una sezione che solitamente ospita 28 bambini, poi diciamo nel corso adesso attualmente gli iscritti sono 22, possono arrivare fino a 28 bambini, la scuola in realtà è strutturata per poter ospitare più sezioni, per cui si potrebbero accogliere anche più bambini, dipende dal numero delle iscrizioni, naturalmente essendo una realtà del forese, come ho detto prima, i numeri non sono altissimi, ma è importante continuare a mantenere anche una vicinanza a queste realtà attraverso la presenza di una rete diffusa di scuole. Per cui queste, diciamo, sono le caratteristiche di questa scuola che, diciamo, vede naturalmente, come dire, un forte investimento da parte del Comune, dell'istituzione scuole nidi, che ha il compito della gestione dello 06 in città, e anche della realtà territoriale, perché questo è un locale della parrocchia che noi abbiamo adesso incomodato d'uso per 12 anni e che ci consente anche di poter, come dire, fare un investimento su questa struttura, diciamo, come dire, avendo come beneficio quello di avere per l'appunto il comodato gratuito. Per cui, diciamo, è una sinergia molto importante che va nella direzione di dare delle risposte al territorio. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Allora, chissà se saranno pallabolisti del futuro questi bambini, speriamo. Sì, no, intanto, se mi è consentito, volevo anch'io dire augurare un buon anno a tutti gli allievi, alunni e anche ai docenti di ogni scuola di ordine grado oggi, no? E soprattutto sperando che sia un anno che non veda comunque delle costrizioni come abbiamo vissuto in questi ultimi anni qua, perché sono cose che poi, soprattutto nei giovani, negli adolescenti, lasciano segno. E però sappiamo quanto poi lo sport li può aiutare, gli aiutati anche a recuperare. Quindi torniamo a parlare di volley. Sì, dicevo, per completare il ragionamento di prima, che comunque le squadre, le squadre, allora, diciamo, come dicevo sulla carta, direi che Vibbo-Valenzia, che è una retrocessa, è data come ammazza campionato, tanto per usare un termine molto chiaro. Quindi una squadra forte. Sì, poi ci sono, comunque il campionato in generale è tutto quanto aumentato in termini di competitività e di valore. Però è una cosa che succede già da due o tre anni, questo. Poi metto le solite Bergamo e Castellano, sono quelle che ci provano da sempre, e ci sarà sicuramente anche una sorpresa, come è successo l'anno scorso, che addirittura l'anno scorso è stata una sorpresa eclatante. Esatto, ecco, a proposito di questo nuovo anno delle novità, si tornerà al Palabigi, sostanzialmente, fine mese l'inaugurazione. Sì, si tornerà al Palabigi, infatti, come dicevo, la prima partita sarà il 16, il 16, sì, domenica 16 alle ore 18. O l'8, no, ah, in casa, dicendo. No, no, in casa, in casa, sì, sì, no, parlavo in casa. E come sta andando la campagna abbonamenti? Sono stati i primi giorni? Beh, deve partire praticamente, quindi abbiamo adesso... Avete annunciato la partenza? Sì, abbiamo annunciato la partenza, adesso dobbiamo iniziare. Però avete delle aspettative, perché appunto si torna a Reggio Emilia? Ma aspettative ci sono sempre, aspettative ci sono sempre. È chiaro che tornare in città, pensiamo che comunque possa ritornare anche del pubblico, che chiaramente l'anno scorso non veniva a Rubier, ma all'inizio, diciamo, nel giorno d'andata l'abbiamo pagata questa cosa, quindi anche in termini economici l'abbiamo pagata. Poi l'andamento del campionato, i risultati che abbiamo ottenuto, ci hanno portato alla fine che, dico, le ultime tre partite, se avessimo avuto una struttura diversa, non esagero se dico che potevamo toccare i 2.500-3.000 presenti. Diciamo che per tanti motivi è ancora un po' un targo, questo non è superata, questa questione di non aver potuto avere una struttura adeguata. Beh, diciamo che sarebbe, secondo me si occupa anche, non pensarci, cioè voglio dire, alla fine hai dovuto ricostruire e ricostruirti degli stimoli per poter in qualche modo ripartire da dove sei già, da dove sei sempre stato. Esatto, infatti, considerando poi quale è stata, la stagione è finita e come si riparte, però nel quadro che abbiamo detto, poi gli obiettivi quali possono essere per voi? Ah, beh, gli obiettivi sono sicuramente quello di intanto aver fatto una squadra di giovani, quindi riprendere un nuovo ciclo, perché riteniamo che questo sia un nuovo ciclo che riparte. Gli obiettivi, noi non poniamo limiti agli obiettivi, ripetere i risultati dell'anno passato è una cosa sicuramente difficilissima, ma se, come dicevamo, non succede, ma se succede noi non ci fermiamo, andiamo avanti, e questo è quello che aspetta fare a noi, noi lo facciamo, lo faremo. E certo, e poi rimarrebbe il problema del non avere una struttura... Non aspetta a noi quel problema, io mi fermo qui. Voi giocate per vincere e per essere al top del campionato. Noi giochiamo per vincere, quello che ci viene chiesto dalla nostra funzione, credo che a noi tocca fare questo. Certo. Poi dopo non credo che ci tocchi occuparci di altro, di perdere tempo a pensare ad altro. Noi cerchiamo di fare questo. Punto. Mi fermo lì. Ne volevo chiedere anche questo, grande momento, anche di grande entusiasmo, per la pallavolo italiana, grazie appunto alla vittoria ai mondiali, questo dà anche slancio a tutto il movimento. Se lo aspettava, se lo aspettava questa vittoria. Ma, diciamo la verità, già non mi aspettavo la vittoria l'anno scorso dell'Europeo, perché comunque lì è stata, ecco, tornando al discorso dei giovani, come dicevamo prima, è stata secondo me una scelta chiara e coraggiosa da parte di De Giorgi, che fra l'altro è una generazione dei fenomeni, come Luca Cantagalli, di puntare decisamente sui giovani, e l'ha fatto l'anno scorso. Quello che secondo me doveva essere un percorso che portava nel triennio, perché non è stavolta quadriennio, nel triennio olimpico, ad arrivare a far fare esperienza ad una squadra giovane, per arrivare poi a Parigi in un certo modo. In realtà è andato al di là di ogni aspettativa vincendo l'europeo. Poi vai al mondiale, sei campione d'Europa, sì, però il mondiale è il mondiale, e quindi squadra comunque la più giovane di tutto il lotto delle squadre, la media di età è la più bassa. E poi non perdi una partita, fai quello che è, credo che abbiamo davanti come prospettiva una squadra che può dare... E' solo l'inizio, potrebbe essere solo l'inizio. Incrociamo le dita, ma diciamo che potrebbe essere solo l'inizio. Da ultimo volevo tornare al tema degli abbonamenti, perché appunto voi la vostra parte l'avete fatta, la squadra è pronta per ripartire, adesso serve Ereggiani, vengono a vedervi. Certo, questo sì. Sicuramente noi possiamo promettere divertimento, perché abbiamo una squadra che sono sicuro che lotterà in ogni partita. Poi le partite sono sempre vinte o perse, solo alla fine lo stagio. Certo. Per carità. Quindi voi promettete divertimento e impegno? Promettiamo impegno sicuramente, perché sicuramente questi ragazzi ce la metteranno tutta, anche lo staff e la società pure. e possibilmente divertimento. E fare sì che comunque quel calore, quell'attaccamento che abbiamo visto e ottenuto l'anno scorso, non rimanga episodico, ma sia qualcosa che comunque continua. La nostra... Il nostro è un percorso di crescita che deve continuare e non deve fermarsi. E noi vi seguiremo in questo percorso. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci fermiamo.